acqua, cavallettino, fotocamera sono ufficialmente in piancavallo sotto le antenne questa è la mia prima neve di quest'anno l'idea è quella di fare una camminatina con mio babà partiremo da sotto le antenne dove mi trovo ora così da fare il percorso delle malghe l'obiettivo del giorno è quello di farmi sì una bella camminata divertirmi sulla neve anche quello di scattare un po di foto per instagram devo dire che ha dato comunque una bella imbiancata per quanto sia non metri e metri ci sta ci sta quindi tutte le antenne sembra di essere una base spaziale almeno c'è la neve negli ultimi anni con il cambiamento climatico la neve ne cade sempre di meno i ghiacci si sciolgono in futuro porterò magari anche di video dove vado a sciare però quello si vedrà dopo un po di lavoro per fare delle foto che saranno venute sicuramente male una merendina merendina e ecco perché alcuni di voi mi hanno fatto notare che in tutti i video io mangio quindi non poteva mancare lo spuntino e ovviamente quando avete finito qualsiasi cosa gli involucri le plastighete ve le portate a casa perché bisogna rispettare l'ambiente guardate che carino pupazzo di neve insta di fiducia e ora farò qualche timelapse perché comunque è bellissimo c'è questa specie di mare di nuvole faccio anche una foto pensavo bastasse il suo stand ma devo prenderne un altro perché sennò non riesco a fare niente ho optato per sfruttare il magnetismo per fissarla eccoci comunque è geniale c'è panorama timelapse io fotocamera fotocamera e per rinfrescare le bevande nella neve e non poteva mancare il panino prima faceva più caldo c'era un sole davvero forte però ora il sole sta diminuendo quindi mi visto che sennò poi congelo dopo questa pausa abbastanza lunga si riparte perché andremo in un'altra zona proseguendo sempre il sentiero dove dovrebbe esserci un panorama un po' più aperto sono arrivato quasi in cima almeno c'è una croce di solito si mettono in cima e si beh ecco allora chiariamoci alla fine era tutto piano tira una palla di neve allora non 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 Grazie a tutti.